E' sempre una bella avventura ogni volta che parti, è sempre un trambusto, arrivi, rifai la valigia, riparti, è sempre una corsa. Però alla fine noi viaggiamo e giriamo il mondo con la valigia ed è parte, è diciamo, la nostra piccola casa a quattro ruote. La valigia cambia anche in base al periodo dell'anno dove andiamo, infatti in America magari si tende ad avere cose più pesanti. Aspen adesso ultimamente non ha fatto così freddo, però non era neanche caldo. Invece in Andorra ho fatto una valigia di pantaloncini e magliette, faceva veramente caldo. La mia valigia è sempre piena di tanti sogni e tanti obiettivi. Ogni tappa ha delle emozioni. Ci sono a volte delle valigie che faccio con più preoccupazione e delle valigie che faccio con più leggerezza. Però l'importante è farle sempre metodiche in modo da avere tutto a posto per performare al meglio in ogni occasione.